Grazie, grazie a tutti. Fiorenzo, sei stanco? No, perché avevo intenzione di farti fare anche qualcos'altro. Magari. Magari. Cosa intendi? No, beh, adesso vai che siamo... Meglio non dirlo, no, no. Hai ragione, non è l'orario giusto, no. Allora suona, suona pure. Cosa ci fai? Mia poesia? Volete mia poesia? Sì! L'ho sentito una grande adesione. Sì, effettivamente, riproviamo. Fatemi sentire. Volete mia poesia? Sì! Ah, ecco, adesso ci sono. C'è sempre la zona sinistra e la destra, che quella destra è ancora... È incerta. È come in piazza, un po' incerta. Insomma, allora, lato destro. Volete mia poesia? Sì! Ok, lato sinistro? Sì! Tutti? Sì! Fiore, ti tocca. Vai! Vado! Vado! Grazie a tutti. 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 Mia poesia, Fiorenzo Tassinari.